Rispondo come ho risposto nel caso appunto di San Bernardino, l'Apple si è rifiutata, ci sono comunque degli strumenti, dei mezzi per poter aprire questi telefoni, non esiste solo la società israeliana di cui tanto si è parlato per la questione di San Bernardino, esistono degli hacker che in questo caso sono hacker positivi, hacker buoni, che sono in grado di fare quel lavoro, naturalmente non penso che Apple darà mai il supporto. E' legale tutto questo? Ma è legale nel momento in cui la magistratura ti chiede di farlo e quindi ti dà l'incarico di aprire quel telefono. Questo si può fare e lo si può fare anche perché le conoscenze di questi hacker buoni sono sufficienti per ottenere risultati importanti e fondamentali come in questo caso per la lotta al terrorismo.